ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video è un video speciale il motivo quale è le musiche come sentite ci sono delle musiche no ho sbagliato raga c'è quella di bella faccia poi ditemi il volume da tenere se questo va bene così almeno ok allora tanto se ne metteranno un sacco cioè c'è un botto ragazzi c'è un botto di canzoni c'è pure albatros ragazzi pure albatros comunque oggi sono veri eh c'è quella di bella faccia la survival the killer ok ok intanto noi che giochiamo oh raga magari il killer bell killer bell killer bell killer bell killer bell killer oddio bellissima ragazzi la canzone si cambierà o la dovrò cambiare io o si cambierà da sola il video si si cambierà e roblox dobbiamo mandare marius the magic grande bella faccia se bella faccia mi mette il copyright per favore bella faccia non farlo ci voglio bene bella faccia ve lo sempre più video ti lascio like lasciatelo anche pure i miei video iscrivetevi eh dopo posso ritornare comunque d'ora in poi metterò sempre le musiche dora in poi metterò sempre le musiche perchè sono bellissime da mettere durante i miei video perchè così danno un po' di senso magari attivano cioè sono belli a qualcuno piace qualcuno magari qualcuno piace ragazzi una cosa inutile cosa serve il commercio che commercia qua vediamo ragazzi se possiamo comprarci qualcosa no gli assassini ragazzi di assassini ce ne ho tutte quante ce li ho venti ce li ho livello 25 ci sblocca scream si sblocca scream dai per favore bella faccia no va dai Ci va proprio vicino Ci va proprio vicino Questa non è la canzone Questa è la canzone che metto So che non ha tema però E che ci devo fare io Questa però ha l'amore Cioè Spero che vi piaccia Poi consigliate le musiche nei commenti Chi mi scrive? Ok Siamo tutti i miei Iscrivetevi al canale E lasciate un bel like Dai ragazzi Ma che non si iscritti ai 70 Possiamo farla Ci potete fare Dai raga Dai dai Non dai Non dai Sì sì dai 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 Anche ma è là Tra è là Oh Porca Scalone pacifiche La credo Mi ha visto Non mi ha visto più Sì mi ha visto Paura Paura Prendo l'oggetto lo stesso Grazie Ecco Però io già ti riprendiamo Eh no Qua non possiamo entrare Che palle Devo trovare un forziere Raga non posso capermela con bottiglia Sono un Un'arraffa a bottiglia Non mi ha visto più O gli anima per una? E non so nemmeno come sono vivo? La crema e la crema in un remix Cangerò per 16, non fa la radicazione Con lei invece si ma anche no Scusate cercherò di non cantare nei prossimi video Ma perché amicate le nostre canzoni Ovviamente non saranno sempre le stesse Saranno sempre le diverse Eh poverino Quindi ragazzi sono il La Rappo a tutti Eh non è un orologio Un Rolex Cos'è un Rolex? Un... Sicuramente non è un Apple Watch E noi siamo già una bella canzone Che a me piace Spero che ci sentano Guardate gli altri video Eh vabbè guardi Rolex però Pidi 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 No E' un po' 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 Così non si sente la musica, mamma mia. Sì. 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 Però non devi urlare così. Così non si sente la musica. Oh, sto killer del padre. Hanno perso quelli. Non ci si un bel po' però. Un bel po'. Ah, e raga, non ho messo la prossima canzone. Sì, ok, si è messa da sola. Beh, vabbè, due uccisioni, fai schifo. Ci quanti fugga. Comunque, ragazzi, non dimenticherò mai con la testa quanti minuti di video siamo. 9, facciamo i 11. Sì, sì. Ragazzi. Cerca di non colpare. Ok. E' una parola di riforme. Ok. E invece sono canuto qua. E c'è qui. Ora c'è qui. 15 like e vi prometto che non canto. 15 come il mio livello. No, fix. Il livello... Ah, c'è un killer. Che si sblocca. Ecco. Dovete lasciare il numero di livello di questo tozio. 31. Carriamo. Il numero di due giustizie. Vediamo se è fortunato. Giusto.